come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità o allora assegno di inclusione a di quando è che esce questo benedetto calendario dei pagamenti da parte dell'inps dell'assegno di inclusione per il mese di settembre ancora non ci sono le date fisse però ovviamente voi sapete che se rimanete collegati e siete iscritti al mio canale di youtube appena escono le date di pagamento sarete subito immediatamente informati ma la vera domanda è quella che ci siamo fatti all'inizio di questo video quando arriva il calendario dei pagamenti allora allora un momento facciamo così a oggi a oggi sappiamo che non esiste nessun calendario dei pagamenti da parte dell'inps da settembre a dicembre un po come era successo a gennaio che era uscito il calendario da gennaio ad agosto no ci davano tutte le date e poi vabbè più o meno più o meno giorno più giorno meno diciamo che avevano mantenuto più o meno le date no sappiamo che comunque i pagamenti arrivano questo è chiaro non è che non essendoci il calendario non arrivano i pagamenti diciamo che quando hanno pubblicato il calendario più o meno sapevamo muoverci ecco diciamo così però una cosa mi raccomando ascoltate tutto il video perché dopo devo dirvi una cosa importantissima quindi ascoltate bene tutto quanto e quindi tornando a noi l'altra domanda è bella da perché cosa sta aspettando dims perché non pubblica questo calendario perché non fa uscire le date mistero a questo punto mi verrebbe da pensare mi verrebbe da pensare che dice io non pubblico le date così posso essere libero di muovermi come voglio tanto comunque i pagamenti vengono sempre fatti di solito al 15 e al 27 a parte i sabati le domeniche i festivi non festivi ok a parte sto discorso lì che i pagamenti possono essere anticipati o posticipati e va bene però ovviamente cosa succede questo dice se io non pubblico le date posso muovermi come voglio no ovvio se io non ti dico che esce il 15 se lo faccio uscire al 14 o al 16 tanto di guadagnato alla fine tanto che me ne frega meno cioè voglio dire tanto comunque al 15 al 27 arrivano i pagamenti quindi cosa cambia però prima di andare avanti nel video e rispondere a un'altra domanda per quanto riguarda il calendario dei pagamenti vi ricordo vi ricordo la convenienza dell'abbonamento al mio canale di youtube tre vantaggi esclusivi tre tre primo primissimo vantaggio priorità dei commenti dei vostri commenti sotto i video secondo priorità dei commenti all'interno delle dirette live terzo terzo vantaggio video esclusivi e riservati solo agli abbonati quindi sono gli abbonati possono vedere dei video esclusivi che non vedrà nessun altro nessun altro inoltre non è finita qua perché con l'abbonamento super omega l'abbonamento mega c'è la possibilità di avere una sessione privata con me di 30 minuti tutte le settimane quindi vantaggissimo vantaggissimo andate a vedere la sezione abbonamenti del mio canale qui sotto a questo video oppure all'interno della home page del mio canale sotto un page quindi pagina principale per chi non capisce l'inglese la pagina principale del mio canale sotto il mio nome trovate il collegamento cliccate lì e scoprite come diventare abbonati del mio canale torniamo al nostro calendario dell'inps allora perché dice perché non pubblichi il calendario dice io non lo pubblico almeno così nessuno si aspetta niente nessuno rimane deluso e tutti vissero felici e contenti come si dice nelle favole però siccome che questo mese il 15 cade di domenica è qui che è qui che sorge il dubbio noi supponiamo che le lavorazioni a questo punto ho il calendario qua davanti supponiamo che le lavorazioni a sto punto vengano fatte comunque le lavorazioni vengono fatte sempre due giorni prima però siccome che il 15 di domenica se pagano venerdì a questo punto venerdì 13 giorno pure sfigato a questo punto le lavorazioni non ce la aspettiamo per l'undici giusto giusto ma cosa succede siccome che andando andando indietro nel tempo riguardando cosa succedeva con rdc quando il giorno cadeva di domenica il pagamento veniva posticipato al 16 quindi a un certo punto cosa succede che le lavorazioni a questo punto essendo due giorni prima tolto il sabato torniamo indietro si parte con il 12 dalle lavorazioni lo scopriremo lo scopriremo più avanti e come vi ho detto prima appena ci saranno delle novità ve lo farò sapere immediatamente quindi quindi iscrivetevi al canale bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto di attivare anche la campanellina di andare a vedere la sezione abbonamenti del mio canale di youtube perché ho intenzione di fare altre cose quindi tenetevi pronti se siete abbonati sarete già in prima fila pronti per la pole position se non siete abbonati vi perdete dei pezzi quindi andate nella pagina principale del mio canale di youtube sotto il mio nome cliccate su quel collegamento e abbonatevi con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato e ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao